Inseguendo gli approdi di Taras, è un raid individuale in canoa che circunnavigherà le coste del territorio ionico dall'11 al 14 giugno prossimi. L'iniziativa è stata ideata da Nicola Tanzi in collaborazione con Panathlon Club di Taranto e dalla Capitaneria di Porto con il patrocinio dell'Associazione Italiana di Geologia e Geomorfologia e dell'Università degli Studi di Bari. Rientra tra le attività svolte nell'ambito dei 150 anni della Costituzione della Capitaneria di Porto. Il percorso prevede in tutto 100 chilometri e si articolerà in quattro tappe. I pernottamenti saranno in tenda sulla spiaggia. La prima tappa riguarderà il fiume Patemisco fino al Camping Verde Mare, località di Marina di Ferrara, del comune di Massafra. La seconda tappa sarà la Baia del Solitario in Contrada Carelli al comune di Taranto, mentre per il 13 giugno è previsto l'approdo sulla spiaggia di Librari nel comune di Torricella. L'itinerario si concluderà a Punta Prosciutto tra Manduria e Porto Cesario. Per seguire l'itinerario e avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.aprodiditaras.info. L'idea è quella di far conoscere l'ambiente in cui vivono agli stessi tarantini che poco la conoscono. Ci sono alcuni posti che frequenterò dal mare che sono poco nuti, assolutamente ignoti alla maggior parte della gente. E questo è uno degli aspetti. Quindi quando si parla di ambiente in realtà è proprio l'idea di conoscere quest'ambiente che è alla base di tutto. Poi se ne può parlare male o bene, ma se non lo si conosce è inutile parlarne. Questa è l'idea. Da qui l'iniziativa che vuole essere anche un rilancio di immagine esterna, perché noi come tarantini diamo un'immagine esterna molto 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 negativa.